Orchideria di Neosola, Orchideria di Medicina per l'Anima, vi ricordo sempre i novissimi libri, ormai sapete tutto, comprateli, hanno tre grandi pregi, questo è un po' semplicissimi, lo ho scritto io, questo è solo cartaceo, lo trovate qui in Orchideria o su Amazon, questo invece è solo ebook e lo trovate solo su Amazon, questo è Orchideria di Medicina per l'Anima, abbiamo il gruppo Orchideria di Medicina per l'Anima, siamo 34 mila erotti iscritti, iscrivetevi, leggete il libro, fate possibilmente una buona recensione, Ok, adesso ora voglio parlare delle mostre che ci saranno in questo periodo qua, la prima è questa fine settimana, venerdì, sabato e domenica, 10, 11, 12 settembre, sarà all'Agricola del Lago, qui a circa 5-6 km dall'Orchideria, è una mostra antichissima questa qui, si chiama Varese Orchideria, questa di questa edizione è Varese Orchideria 21, cioè ogni anno si mette l'anno, l'anno scorso era 20, solitamente si fa sempre a settembre, è una mostra con parecchi espositori, gli espositori saremo noi, poi c'è Giulio Celandroni della Toscana, anche Giulio Farinelli di Orchidando, la ditta si chiama Orchidando della Toscana, Varesina Orchidea, che è qui di Varese, Gioele, e poi c'è Detlefrenzel, poi c'è una signora che non conosco, una nuova, che vende, da quel che ho capito, soprattutto piante brasiliane, e la ditta si chiama Foreste di Nebbia, o qualcosa del genere, e ha varietà molto selezionate di catei brasiliane. Poi c'è Detlefrenzel, che viene da Stoccarda, poi c'è il banchettino della Lau, col pronto soccorso Orchidee, se qualcuno Orchidee non messe bene può portare lì da parvedere che ci sono degli esperti che gli diranno dei consigli. C'è il banchettino della Lau, l'associazione Lombardo Amatore Orchidee, che è quello che organizza la mostra, e ci sono lì anche appunto tanti esperti, si fanno anche tante conferenze, tanti incontri che bisogna però prenotarsi prima, li trovate in internet, si date in internet, cercate Varesi Orchidea 21 all'Agricola del Lago, oppure a Lau, l'associazione Lombardo Amatore Orchidee, lo vedrete tutto il programma. Settimana prossima invece c'è Orticola a Milano, è una mostra che si fa da tantissimi anni nel centro di Milano, e è una delle più importanti mostre italiane di piante da collezione, di mostre di giardinaggio, ma soprattutto di piante rare, piante da collezione. Si svolge in centro Milano nei giardini di Via Palestro. Noi quest'anno, perché c'è tre ingressi, da Via Palestro, da Piazza Cavour e da Via Manin. Quest'anno ci erano spostati di posto, perché ci hanno messo vicino la Lau, l'associazione Lombardo Amatore Orchidee, e siamo vicini alla fontana, allo stand 120. Cioè praticamente siamo, l'entrata da Via Manin, siamo subito lì dopo la fontana. È una mostra molto importante, anche lì c'è tantissime piante particolari di tutti i tipi, ma anche di orchidee, perché anche lì siamo a 5-6 spesitori di orchidee. Questa qui si apre giovedì pomeriggio, poi venerdì, sabato e domenica. È una mostra molto molto importante, proprio nel campo del giardinaggio. Poi abbiamo una settimana a buca, poi c'è il primo fine settimana di ottobre, c'è la mostra che si chiama Il Fiore degli Dei, fatta al Fico di Bologna. Il Fico è la fabbrica italiana contadina di Parinetti. È quella che è tutta roba alimentare, è una città per l'alimentazione. Questa qui si farà appunto sabato e domenica, il primo fine settimana di ottobre. E anche lì siamo diversi spesitori, praticamente un po' più o meno quelli che c'è, no, in più ce ne sarà degli altri. Per esempio a Varese c'è anche Massimo Morandin di Treviso, che mi sono dimenticato, magari mi sono dimenticato che qualcun altro. Anche a Bologna ci saranno parecchi espositori di orchidee. Allora, mentre quella di Varese e l'orticolo di Milano faremo qualche giorno va mio figlio e qualche giorno vado io, quella di Bologna va solo mio figlio, perché lì bisogna andare a montare quando chiude, mi sembra che chiude le 11, bisogna andare a montare le 11. E poi smontare domenica sera, bisogna andare dopo la chiusura alle 11 a smontare. Io ho le 11 russoforte, per cui va mio figlio. Ah, sì, poi c'è un'altra mostra molto importante, la prima volta che si fa, allo spazio Aurum di Pescara. È organizzata dall'AOCI, Associazione Orchidopidi Centro Italia. È un'associazione molto, molto dinamica che ultimamente sta crescendo tantissimo, perché fanno tante e tantissime iniziative, tra cui un bellissimo giornalino. e sono molto attivi anche in internet, sui social media, sul gruppo Facebook e tutte queste cose qua. Va bene, intanto le mostre che partecipiamo, su queste mostre ce ne sono anche tante altre, ma quelle che partecipiamo come archideria sono queste qua. Allora, vi aspetto le mostre, se volete venire. Se non trovate merci sarà mio figlio. Allora, va bene, dai, a domani.